Io sono molto orgoglioso grazie alla squadra del Parco archeologico di Pestum e Velia, grazie anche all'aiuto delle amministrazioni comunali, Capaccio Ascea, della Regione Campania, degli amici di Pestum, di tutta una serie di partner che ci hanno permesso di entrare tra i primi luoghi della cultura che riaprono e noi riapriamo all'insegna dell'inclusione, oggi la giornata internazionale dei musei, inclusione, condivisione, accessibilità, vogliamo ripartire dalla missione sociale del museo. Ed è molto importante i bambini, persone con bisogni speciali, di dare a loro una possibilità di tornare insieme a tutti noi a una vita normale, rispettando però tutte le misure di sicurezza. In questo periodo abbiamo avuto anche un'altra procedura complessa che è l'accorpamento di Velia e Pestum. Noi adesso siamo un unico parco, quindi c'è un unico biglietto che vale tre giorni, con cui posso visitare Velia, Pestum e il museo di Pestum e c'è un unico abbonamento. Chi ha già l'abbonamento ovviamente vale adesso anche per Velia, chi lo compra, da adesso c'è una promozione 20 euro, un anno ingresso a tutti i siti, le attività che non comportano l'aumento del biglietto, sia a Velia che a Pestum. Noi vogliamo diventare una cosa unica, non è solo una cosa sulla carta, ma sarà un vero parco archeologico del Cilento, con i due centri principali sul livello di archeologia di questo territorio. Dopo più di due mesi che siamo stati a casa, chi ha figli sa che non è facile, adesso vogliamo dare qui la possibilità di fare un'attività all'aperto, un'attività di gioco che però è anche un progetto culturale perché è a tema archeologico e quindi giocando possiamo imparare qualcosa sulla storia, sull'archeologia di questo luogo.